Questa ripresa è per me. Ripeto, sto viaggiando ai 10-12 km all'ora. Talmente tanto piano che diciamoci la verità, il tachimetro neanche funziona. Sto andando a Zocca, al paesello. Spero che la luce del sole, fatta sulla mia fronte, se la ha. E che questa bellissima giornata sia per tutti un augurio. Allibido da cotanta bellezza. Eeeh, quando c'è la neve, c'è la neve. Vi direte, se non hai mai visto la neve? Io l'ho vista, e da un po' che non veniva nevicata così. Fami pure tu la ripresa. Se riesci a ripresa da questa meraviglia, noi come mettiamola su tutto? E cambierai anche la canzone che ci fa. Quella volta. Sì. 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 Sì.